Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questo caso me l'avete richiesto in tanti. In realtà ho ricevuto un sacco di commenti con scritto Silvia, parla di Hannibal Lecter. Quello vero. Ovviamente so che vi state riferendo a Robert Moseley, un detenuto della prigione di Wakefield. Più precisamente ci troviamo nel West Yorkshire. E Robert, che è stato definito il criminale peggiore del Regno Unito, ha un trattamento speciale. La cella di Robert dal 1983 si trova sottoterra, è simile ad una gabbia di vetro e ha davanti a sé una squadra di agenti penitenziari dedicati a tener d'occhio solo e soltanto lui. Nella cella di Robert ci sono un letto, un tavolo, una sedia, insieme ad un lavandino e ad un WC, fissati al pavimento. La cella è chiusa da una solida porta d'acciaio. Appena la si apre ci si trova davanti ad una piccola gabbia, con una fessura in basso che consente alle guardie di passare del cibo e altri oggetti a Robert. Veramente pochi oggetti, in realtà. Robert rimane nella sua cella per 23 ore al giorno. Viene scortato sempre in cortile da ben sei ufficiali della prigione per la sua ora d'aria. Non può avere alcun contatto con tutti gli altri detenuti. Robert nel 2000 dichiara Le autorità carcerarie mi vedono come un problema e la loro soluzione è stata quella di mettermi in isolamento e di buttare via la chiave per seppellirmi vivo in una bara di cemento. A loro non importa se sono pazzo o cattivo. Loro in realtà non conoscono la risposta e non gliene frega niente. Tanto sono tenuto lontano dalla vista e dalla mente di chiunque. Sono lasciato qua a ristagnare, vegetare, regredire, lasciato a confrontarmi con persone che hanno occhi ma non vedono. Hanno orecchie ma non sentono. Hanno bocca ma non parlano. La mia vita, fatta per lo più di solitudine, fa parte di un lungo periodo di depressione interrotta. Ebbene, Robert è trattato come un criminale pericoloso. Molto pericoloso. Ma perché ha ottenuto questo trattamento? Che cosa ha fatto esattamente? Come al solito, andiamo con ordine. E facciamo un bel passo indietro. Chi è Robert Moseley? Da dove viene? Qual è stata la sua vita? Robert nasce nella periferia di Liverpool, in Inghilterra. Più precisamente a Togstead. Il 26 giugno del 1953 da George e Gene Moseley. In famiglia la situazione è pessima. Robert ha due fratelli maggiori e una sorella maggiore. Il padre mette le mani addosso a tutti i figli, nessuno escluso, fin da quando sono molto piccoli. Perché questi bambini, come è normale che sia, piangono. I bambini, se ancora non sanno parlare e c'è qualcosa che non va, piangono. Ma George non sopporta di sentire il pianto dei bambini e quindi è convinto che punendoli avrebbero smesso di piangere, cosa che ovviamente non avviene. L'unica conseguenza che ottiene George è quella di sentire quei bambini piangere ancora più forte. Gene, la madre, non mette le mani addosso ai suoi figli, ma se ne frega altamente di ciò che fa George. Quando Robert ha solo sei mesi, un vicino di casa chiama gli assistenti sociali perché vede come vengono trattati quei bambini. Così gli assistenti sociali intervengono e tutti i bambini vengono portati in un orfanatrofio cattolico. La Nazareth House a Crosby, un paese della contea di Merseyside, gestito da delle suore e fortunatamente crescono al sicuro. Non ricordano i loro genitori, nessuno ha detto loro che avevano dei genitori. Quindi crescono credendo di essere orfani. Inoltre ricordare i loro genitori chiaramente è traumatico per loro. È così che Robert e i suoi fratelli rimangono in quell'orfanatrofio per nove anni. E durante questi nove anni stanno tutti molto bene. Questo per loro è davvero un periodo felice. Robert in particolare si trova molto bene lì con gli altri bambini. E inevitabilmente crescendo vede quel posto come casa sua. Arriva però un giorno, un giorno in cui uno dei quattro fratelli sta per essere dato in affidamento. Ma la chiamata dei loro nonni blocca tutto. I nonni dicono che vorrebbero prendersi cura dei loro nipotini e in effetti glielo concedono. Peccato che Robert alla fine non va assolutamente a vivere con i suoi nonni, ma torna a vivere con i suoi genitori biologici con i suoi fratelli. Ora chiariamo una cosa. Per Robert quelli non sono i suoi genitori. Lui li vede come degli sconosciuti. Non ha ricordi di loro prima dell'orfanatrofio. Di conseguenza non sapeva neanche che faccia avessero. Peraltro quando torna a casa Robert si ritrova un padre aggressivo, ubriacone, violento, che gli mette le mani addosso, lo picchia. E non si limita a picchiare solo Robert. Picchia anche i suoi fratelli e sua sorella maggiore. Il punto è che Robert non vuole che il padre faccia male ai suoi fratelli, nonostante sono più grandi di lui. Tenta sempre di conseguenza di difendere i suoi fratelli dalle botte del padre. E alla fine è quello che le prende più di tutti. Vivono in una condizione di grave povertà. Inizialmente George e Jean, per quanto siano dei pessimi genitori, quantomeno provano a sfamarli. Ma si rendono conto che vivono meglio quando i figli sono in punizione e quindi devono saltare il pasto. A questo punto il loro padre li incoraggia a rubare del cibo dei negozi di Liverpool durante il giorno. Inutile dirlo. Questi ragazzi non sono lupen, quindi spesso e volentieri vengono beccati a rubare. E quando accade ciò la polizia li prende e li raccompagna a casa. E ogni volta loro padre George si arrabbia tantissimo e quindi li punisce. Ma non perché abbiano rubato tutt'altro, è lui che li incoraggia a rubare. George si arrabbia tantissimo perché i suoi figli si sono fatti beccare. E lui non vuole assolutamente che la polizia si avvicini a casa sua. Quindi la situazione è questa. I genitori di Robert non hanno il becco di un quattrino. Non riescono a mantenere i quattro figli che già hanno messo al mondo. Ma decidono comunque di continuare a mettere al mondo altri bambini. Ebbene, mettono al mondo altri otto figli. Quindi arrivano ad essere in dodici. Questo vuol dire che in quella casa ci sono quattordici persone, compresi i genitori dei bambini. Ovviamente George e Jean hanno una casa minuscola. E quindi tutti i bambini dormono sul pavimento senza neanche una coperta. E chiaramente sono tutti quanti terrorizzati da loro padre. Col tempo però George si stufa di mettere solo le mani addosso ai suoi figli. Inventa dunque nuovi modi per fargli del male. Specialmente a Robert. George rinchiude Robert in uno sgabuzzino. Per mesi. Lo lascia al buio. Ed entra in quella stanza solo per dargli del cibo e da bere. E ahimè, talvolta fa anche violenza su di lui. A questo punto George inizia a picchiare Robert con un bastone. O con il calcio di un fucile ad aria compressa. Finalmente i servizi sociali intervengono di nuovo. Allontanando nuovamente tutti i figli di George e di Jean. Questa volta vengono portati in una specie di casa famiglia per essere adottati. Rimangono lì per qualche anno ma non vengono adottati. E quando Robert ha circa 17 anni scappano tutti. Alcuni fratelli tornano a Liverpool perché è l'unico luogo che hanno conosciuto. Sanno come muoversi in città. Altri scappano per varie città del Regno Unito. Ed è così che Robert verso la fine degli anni 60 si ritrova a Londra. Però la verità è che Robert non è ben istruito. È senza soldi. Non ha un posto dove stare. E soprattutto non conosce nessuno a Londra. Quindi il ragazzo si ritrova a dormire per strada. Inizialmente fa il borseggiatore ma i soldi che ruba non gli bastano per sopravvivere. Ben presto quindi si rende conto che deve riuscire a procurarsi più denaro. Quindi decide di iniziare a lavorare per strada sul marciapiede. Entrando in questo mondo, ahimè, Robert si avvicina anche alla merce non troppo legale. E ne diventa dipendente. Inizia a bere alcol sempre di più e in breve tempo Robert sente la necessità di bere tutti i giorni. Tutto il giorno. Così come senti la necessità di consumare la merce non troppo legale per riuscire ad andare a lavorare. Purtroppo questa è una storia che conosciamo tutti. Diventi dipendente, bisogno di soldi. E a questo punto anche l'avere una casa dove vivere diventa un progetto secondario. Poco importa se non si riesce a trovare un letto caldo per la notte. L'importante è avere quella merce. Le persone che vivono nelle stesse condizioni di Robert sono molto vulnerabili. Perché portano tutti gli oggetti di valore che hanno con sé sempre non avendo fissa dimora. Robert è da solo, per strada e spesso è vittima di uomini più grandi, più anziani. Che, ahimè, fanno violenza su di lui. E ogni volta che Robert subisce si ricorda dei maltrattamenti di suo padre. Ogni santa volta Robert rivive quel trauma. All'età di 18 anni Robert lavora a tempo pieno per strada. Spesso trova dei clienti nei bar perché beve tantissimo. Quindi spesso e volentieri Robert ed un cliente attaccano bottone in un bar per poi accordarsi sulle prestazioni intime. La vita per lui non è di certo facile. Robert a causa della sua dipendenza e del suo vissuto ha dei seri attacchi di depressione. E arriva a tentare il suicidio parecchie volte. Cerca quindi un aiuto psichiatrico. Viene ricoverato in un ospedale. Per la prima volta Robert racconta ad uno psichiatra, quindi ad un esperto, tutto ciò che ha vissuto durante la sua infanzia e durante la sua adolescenza. Robert racconta tutta la sua vita. Si libera. Inoltre ammette di sentire delle voci nella sua testa che gli ripetono costantemente di uccidere i suoi genitori. La salute mentale di Robert non è certo delle migliori e sta peggiorando sempre di più. Nonostante ciò l'ospedale non gli diagnostica alcun disturbo e lo dimette. Questo ragazzo ha detto agli psichiatri di sentire delle voci nella sua testa. E nonostante ciò l'ospedale se ne lava le mani. Robert purtroppo non riceve alcun tipo di aiuto. Così il ragazzo continua a lavorare per strada fino al 1973. Quando incontra per caso John Farrell, un uomo più grande di lui ma soprattutto molto ricco. Vive nella periferia nord di Londra e spesso chiede a Robert di avere rapporti intimi. E Robert di certo non si tira indietro anche perché quello è il suo lavoro. Ben presto dunque John diventa per Robert un cliente abituale. Passa un po' di tempo e in effetti John si affeziona a Robert. Così gli chiede di lasciare il suo lavoro e di fidanzarsi con lui. Cosa che a Robert non era mai passata neanche per l'anticamera del cervello. Ma l'idea di essere mantenuto, rispettato e magari anche un minimo apprezzato non gli dispiace affatto. Quindi i due iniziano questa relazione che inizialmente si basa solo sui rapporti intimi. Col tempo però iniziano anche a uscire insieme. Vanno a bere nei bar, Robert continua a portare avanti le sue dipendenze con i soldi di John e a fine serata finiscono sempre a casa di John. Arriva la sera del 14 marzo 1974. E come al solito Robert a fine serata va a casa di John. E in questo caso quest'ultimo sembra emozionato. Dice a Robert che gli deve mostrare qualcosa di incredibile e bellissimo. Quindi va verso un mobile, tira fuori un po' di foto e le mostra a Robert. Come già vi ho detto Robert passa le sue giornate completamente ubriaco. Quindi ci mette qualche secondo per mettere a fuoco quelle foto. E quando le vede gli si gela il sangue. Quelle foto mostrano John che fa cose inappropriate con dei bambini. E a questo punto dentro Robert scatta qualcosa. Viene investito dai ricordi della sua terribile infanzia. Resta paralizzata a guardare quelle foto e John non conosce il passato di Robert. Quindi è lì di fianco a lui preso bene che aspetta una sua reazione. John chiede a Robert a un certo punto se vada tutto bene. Poi aggiunge ti piace quello che vedi in quelle foto eh? A questo punto Robert si alza di scatto e si allontana da John. Non riesce neanche a guardarlo in faccia. A questo punto a testa bassa inizia a camminare in tondo per il salotto. Robert non sa come comportarsi. Non sa che fare. Prova solo disgusto. Poi realizza che quell'uomo John che l'ha tolto dalla strada cercando di aiutarlo. È esattamente come suo padre. Robert odia questo tipo di persone. Crede che non meritino di vivere. Ad un certo punto alza lo sguardo e nota una specie di sciarpa appoggiata sul divano. Quindi la afferra. Corre verso John. Gliela mette attorno al collo e inizia a tirare fortissimo. Robert strangola John. Però Robert non sa se John è morto davvero. Teme che sia solo svenuto. Quindi prende un coltello e lo pugnala ovunque. Più volte. Concentrandosi in particolar modo sul viso e sul collo. Poi alza lo sguardo e di nuovo nota un martello. Non è neanche troppo lontano da lui. Quindi si alza. Lo afferra. E spacca il cranio di John a martellate. Robert però in realtà non è un assassino. Anzi non ha mai ucciso nessuno fino a quel momento. Quindi a questo punto si siede. E inizia a fiusare John ormai senza vita e irriconoscibile. Sa che ciò che ha fatto è sbagliato. Robert è consapevole che commettere un omicidio è illegale. Quindi pensa sia giusto andare a consegnarsi alla polizia. Ed è ciò che fa. Ancora con i vestiti pieni di sangue esce e va alla centrale di polizia più vicina. Il ragazzo racconta tutto nei minimi particolari. E la polizia è sterrefatta. Perché Robert confessa tutto senza tralasciare nulla. A questo punto le forze dell'ordine si convincono che quello sarebbe stato un caso estremamente facile. Prima però devono valutare se Robert sia in grado di sostenere un processo. Viene dunque visitato da degli psichiatri e in effetti emerge che il ragazzo non sia idoneo per sostenere un processo. Robert è un ragazzo traumatizzato. Depresso. Ha dei disturbi mentali. Insomma Robert ha parecchi problemi. Il giudice quindi decide di far ricoverare Robert all'ospedale criminale di Broadmoor. A Crowthorn nel Beckshire in Inghilterra. Siamo negli anni settanta e l'ospedale criminale di Broadmoor ospita ovviamente svariati criminali serial. Persone che fanno violenza in modo seriale. Persone che fanno cose inappropriate con... Un posto non proprio ospitale, ma Robert entra in questo ospedale criminale e inizialmente la situazione pare pure andare decentemente. Robert di certo non riceve chissà che trattamento, ma è fiducioso. Vuole provare a stare meglio. Vuole essere curato. Sa che ha dei problemi. È consapevole del fatto che sentire le voci nella sua testa non sia una cosa normale. E spera che la terapia e le eventuali medicine che gli prescriveranno possano aiutarlo. Robert fa terapia una volta a settimana, ma è chiaro che per lui non sia sufficiente. Ha bisogno di cure più specifiche che purtroppo non riceve. A Robert non viene prescritto nessun farmaco. Nonostante ciò, lì Robert si sente più al sicuro, è più tranquillo. Col tempo piano piano trova un minimo di equilibrio, riesce a stare leggermente meglio. Ed è così che passano un paio d'anni. Arriviamo al 1977, Robert a questo punto ha 24 anni e un giorno un nuovo paziente viene internato al Broadmoor. Questo nuovo paziente si chiama David Francis, ha 26 anni e ha fatto cose molto inappropriate a dei bambini. Appena Robert lo viene a sapere inizia a provare una rabbia incontrollabile per David. Lo odia, lo detesta con tutto se stesso. Robert però inizialmente in qualche modo riesce a gestire la situazione. Gli basta stare lontano da David e convincersi che non sia lì, che non esista. I giorni però in me passano e Robert continua a provare questa rabbia assurda. Non riesce a farla passare in nessun modo, non riesce a dormire. È totalmente ossessionato, pensa solo a David e al fatto che non meriti di stare al mondo. Robert vuole che David paghi per i suoi crimini, esattamente come aveva pagato John Farrell, la sua prima vittima. Quindi Robert inizia ad escogitare un piano, inizia a riflettere su come potrebbe ucciderlo. E ben presto si rende conto che non sarebbe riuscito a farlo assolutamente da solo. Così chiede aiuto ad un altro paziente di nome David Chisman. David accetta di aiutare Robert perché odia il Broadmoor. L'unico modo per uscire da quel posto è commettere un crimine più grave e finire in carcere. Infatti molti pazienti internati al Broadmoor sono morti lì, hanno passato lì l'intera vita. Così David Chisman accetta di aiutare Robert. E la loro intenzione è quella di uccidere David Francis. Quindi Robert e David rubano due cucchiai dalla mensa dell'ospedale psichiatrico. Li portano nella loro cella e lievigano un lato dei due cucchiai col fine di creare due coltelli improvvisati. A questo punto Robert e David Chisman sanno che devono trovare un modo per allontanare David Francis da tutti gli altri pazienti. E l'opportunità arriva durante l'ora d'aria che hanno ogni sabato. Il 26 febbraio del 1977 durante l'ora d'aria i due notano David Francis davanti a loro. Si guardano attorno e convengono che quello sia il momento perfetto. Infatti gli altri pazienti stanno giocando a calcio quindi sono tutti concentrati su altro. Così Robert e David corrono verso David Francis. Robert lo sorprende da dietro puntandogli il coltello improvvisato alla gola. Poi con l'aiuto di David Chisman lo trascinano in uno sgabuzzino. Chiudono la porta e gli fanno del male per nove ore consecutive. Robert e David Chisman legano David Francis ad una sedia. Poi lo picchiano selvaggiamente, lo prendono a calci e a pugni. Poi tirano fuori i coltelli e iniziano a colpirlo anche con quelli. Tutto ciò prosegue, come già vi ho detto, per nove ore. Alla fine Robert afferra la testa di David Francis e inizia a sbattergliela violentemente contro il muro. Il cranio di David Francis a questo punto è completamente frantumato. Quindi Robert decide di pugnalargli anche il cervello. Quando il corpo di David Francis viene ritrovato, ha ancora il coltello di fortuna di Robert infilzato nel cervello. Ed è a questo punto che Robert si guadagna il soprannome di Mangiatore di Cervelli. In realtà è proprio lo staff del Broadmoor a portare avanti questa narrazione. Sono certi che Robert abbia mangiato il cervello di quel ragazzo. Ma non è vero. La stampa a questo punto si scatena e inizia a parlare di un cannibale ricoverato al Broadmoor. Iniziano a chiamarlo Hannibal the Cannibal. E questo, già mi avviso, ci fa capire quanto i media riescano a deformare totalmente un fatto avvenuto. Ovviamente se ne hanno la possibilità. Ci sono stati tanti siri al che hanno commesso davvero dei fatti atroci. Ma quel tempo, raccontando la loro storia, la stampa ha cambiato qualcosina. Ha spesso aggiunto qualche dettaglio per rendere quella storia ancora più raccapricciante di quanto non lo fosse. Per quanto riguarda Robert, non ci sono prove di cannibalismo. Ma per i giornali, la storia cambia. Robert è stato visto mangiare quel cervello ed è così che si va in stampa. Ancora oggi, a causa di questa notizia falsa, la storia di Robert continua ad essere raccontata in alcune fonti come la storia di un cannibale. Magari il film Il silenzio degli innocenti ci ha messo il suo? Probabile. Ma se andiamo ad analizzare il personaggio di Anthony Hopkins e andiamo a vedere quale sia la storia di Robert, in realtà troviamo pochissime assonanze. Dopo tutto ciò, Robert ovviamente viene condannato per omicidio colposo e inviato alla prigione di Wakefield. La cosa non è che gli piaccia più di tanto. La qualità della vita dell'ospedale psichiatrico è decisamente più degna rispetto a quella di quel carcere. Ma soprattutto, cosa mi avviso gravissima, non lo mettono in isolamento. Pensi in un'ala della prigione dove può uscire, socializzare con altri detenuti, chiacchierare, parlare. Ed è chiaro che questi altri detenuti abbiano commesso crimini orribili. Anche in questo caso, ovviamente, ci sono dei carcerati che hanno fatto cose inappropriate con dei bambini. E Robert, quando viene a sapere questa cosa, sa perfettamente che sarebbe tornato ad uccidere. Lo sa, ne è consapevole. Quindi chiede letteralmente in ginocchio di essere spostato in isolamento. Cosa che non avviene. A distanza di un anno dall'omicidio di David Francis, Robert decide che è giunto nuovamente il momento di colpire. Cerca dunque di identificare gli uomini presenti nella sua ala, che hanno commesso quel crimine che lui odia tanto. E ci fa amicizia. Inizia a parlare con loro, a socializzare. Poi cerca di attirarli nella sua cella per poterli uccidere. Quindi, il 29 giugno del 1978, Robert decide che avrebbe cercato di uccidere più persone possibili durante quella giornata. Esce dunque dalla sua cella e prova a mettere in pratica il suo piano. Parla con molti detenuti, socializza con loro e prova ad attirarli nella sua cella. Però c'è un problema. Nessuno lo segue. Perché? Perché questi detenuti non sono mica scemi. Sanno chi sia Robert. Conoscono la sua storia criminale. Di conseguenza, nessuno si avvicina alla sua cella, ma neanche per sbaglio. Anche perché sono tutti convinti che sia un cannibale. Cosa non vera, certo. Ma i giornali dicevano questo, ripetevano questo. Quindi, la mattina del 29 luglio, Robert prova ad attirare nella sua cella diversi detenuti. Ma il suo piano fallisce. E quando pensa di dover escogitare un altro piano, quando pensa che il suo piano sia andato totalmente a monte, finalmente qualcuno lo segue nella sua cella. Quel qualcuno di nome fa Salney Darwood. Ha 46 anni ed è stato condannato per aver fatto violenza su sua moglie fino ad ucciderla. Quindi, appena Salney entra nella cella di Robert, quest'ultimo sbatte la porta per poi barricarla. Si butta su Salney, che cade a terra, afferra il suo coltellino improvvisato e inizia a pugnalarlo. Alla fine, l'uomo ha ferite da taglio su tutto il corpo, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Ad un certo punto, Robert smette di pugnalarlo, afferra l'uomo e inizia a sbattergli la testa contro il muro della cella. Infine, prende il suo coltello improvvisato e glielo infila nell'orecchio, fino ad arrivare al cervello. Salney a questo punto perde conoscenza, ma a quanto pare non è ancora morto. Quindi Robert afferra una corda che era riuscito a rubare e che custodiva nella sua cella, e lo strangola. Nonostante ciò, Robert non è di certo soddisfatto. Vuole attirare nella sua cella e far fuori quante più persone possibili. Quindi spinge il cadavere dell'uomo sotto il suo letto e ripulisce tutta la cella. Così Robert, tutto lindo e pulito, esce nuovamente dalla cella per cercare di attirare altre persone nella sua cella. Ma si rende conto che non riesce a farlo. Cammina nella sua ale in cerca di nuove prede. E passa a fianco alla cella di un uomo di nome William Roberts, di 56 anni. E anche William ha fatto cose inappropriate ad una bambina. Quindi diventa la vittima perfetta per Robert. Soprattutto perché in quel momento William sta dormendo e la porta della sua cella è spalancata. Robert così afferra il suo coltello, si butta su William e lo colpisce per ben 20 volte. A seguito di queste coltellate William muore. Ma nonostante ciò, Robert di nuovo gli afferra la testa e inizia a sbatterla contro il muro della cella. A questo punto Robert si sente soddisfatto, sente di aver fatto il suo dovere. E come al solito si dirige negli uffici delle guardie carcerarie per confessare. Dice esattamente queste parole. Credo che stasera a cena ci saranno due persone in meno. Ovviamente Robert viene immediatamente ammanettato. Ed è collaborativo, non cerca di fuggire. Al momento viene condotto in una cella di isolamento. A questo punto le autorità non sanno proprio come tenere a freno Robert. Perché è una persona pericolosa. Inizialmente pensano di rimandarlo al Broadmoor. Anche perché durante il processo i difensori di Robert dicono che tutto ciò è potuto accadere solo a causa della salute mentale di Robert. E infatti Robert dice chiaramente che ogni volta che ha ucciso lo ha fatto perché visualizzava il volto di suo padre. Quindi tutti questi omicidi sono stati compiuti a causa del suo tremendo passato che lo ha traumatizzato nel profondo. Robert dice in tribunale. Se avessi ucciso i miei genitori nel 1970 nessuna di queste persone sarebbe morta. Quindi i suoi avvocati difensori cercano in tutti i modi di mandarlo al Broadmoor. Ma in effetti Robert ha comunque commesso un omicidio in quell'ospedale. Quindi decidono di non rimandarlo lì anche per non mettere in pericolo altre persone. Robert è un pericolo per i pazienti e per i detenuti di qualsiasi ospedale criminale o di qualsiasi prigione. Quindi convengono che Robert dovrebbe stare in un posto dove non sono presenti i detenuti. E l'unica opzione che gli rimane è quella di mettere Robert in isolamento per tutta la sua vita. Nel 1983 viene costruita una cella solo e soltanto per lui. Una specie di gabbia di vetro nel seminterrato della prigione. Questa gabbia di vetro in effetti assomiglia molto alla stanza contenitiva presente nel silenzio degli innocenti. Robert in questa cella non ha privacy, viene tenuto sotto controllo costantemente da delle guardie. Nonostante le mie parole ad inizio video, si può dire che ora Robert stia tentando di vivere una vita normale, chiaramente per quanto gli sia possibile. Per i primi sei anni di detenzione in isolamento Robert si è lasciato andare. Non si è più rasato la barba, non si è più tagliato i capelli, non si è più lavato neanche molto spesso. Inizialmente la sua cella era molto spartana, aveva solo un tavolo, una sedia e un letto. Mentre il lavandino e il WC continuano ad essere imbullonati al pavimento tuttora. Ed è stato così fino al 2000. Nel 2000 Robert implora i tribunali di lasciarlo morire scrivendo una lettera. Dice Se il servizio carcerario rifiuta le mie richieste, allora chiedo una semplice capsula di cianuro che prenderò volentieri. E il problema di Robert John Moseley sarà risolto facilmente e rapidamente. Quindi in passato Robert non poteva fare assolutamente nulla, ma negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, a quanto pare, sono stati un po' più clementi con lui. Robert nella sua cella da circa vent'anni ormai ha una Playstation e un televisore. Gioca a Call of Duty, ascolta la musica classica se lo desidera. Inoltre è solito scambiarsi delle lettere con i suoi parenti, la sua famiglia, i suoi fratelli capiscono perché Robert abbia fatto quello che ha fatto. Non lo giustificano, ma lo comprendono. Hanno vissuto quello che ha vissuto lui, il problema è che Robert è stato maltrattato più degli altri. Ecco perché quando possono lo vanno a trovare, anche se raramente, perché a Robert difficilmente viene concesso di avere contatti umani. A quanto capito Robert ha anche chiesto di studiare all'università. Questo però continua ancora a non essergli permesso. Oggi Robert non può avere la mente brillante di un tempo, specialmente per i pochissimi contatti umani che ha con le persone. Oggi Robert ha 68 anni. Pensandoci bene, tutto ciò che ha conosciuto Robert nella sua vita è solitudine. Togliendo i nove anni sereni passati in orfanatrofio, Robert è sempre stato isolato. Prima dal padre che lo maltrattava, poi in un ospedale psichiatrico, poi in un carcere e infine in una prigione di massima sicurezza, in una cella solo per lui. I suoi contatti umani sono assenti da anni, ma anche quelli precedenti non è che fossero di estrema qualità. In definitiva, ciò che rende Robert quasi unico tra i serial, a mio parere, è il modo duplice in cui può essere vista la sua storia. Robert può essere visto come un essere malvagio che però ha vissuto un'esistenza tragica, un uomo spinto a compiere esclusivamente contro alcuni tipi di criminali atti terribili dai demoni del suo passato. Trovo che Robert sia davvero molto particolare. Mi ha affascinata moltissimo effettuare queste ricerche per approfondire questa storia che sì, conoscevo, ma solo superficialmente. Detto questo ragazzi, ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Conoscevate Robert Mosley? Sapevate la sua storia? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti!